Corri. Diamo il benvenuto al numero 5 e numero 6. Ti aspettiamo molto da voi. Eccellente. Pronto? Mai. Che è successo? Aiutami! Perché ci fate questo? Tu lavori con loro. Godetevi la corsa. Per ora è tutto. Volete scoprire se il trailer è entrato nella nostra classifica? Visitate il link nell'infobox e commentate sotto al video. Ricordatevi inoltre di cercare Screen Week e di iscrivervi a tutti i nostri social. YouTube, Facebook, Twitter e Instagram. Per ogni notizia sul cinema, sulle serie TV, per il gossip dell'ultima ora e le recensioni delle ultime uscite, non perdetevi il nostro blog, blog.screenweek.it Volete inoltre rimanere connessi anche dal vostro smartphone, Apple o Android? Scaricate le nostre app Screen Week e Screen Week TV. Sono gratuite. Ciao! Ciao. Ciao! 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 Grazie.